Sotto una delle nostre stalle è un manzo che è una vacca che non ha mai partorito qua dai 14 ai 16 mesi ed è stata cotta circa 10 minuti fa è stata messa a riposare in modo che i suoi umori, il suo sangue, le sue trame si rilassino adesso noi ascolteremo insieme al midollo il midollo, che sarebbe questo praticamente, è dentro l'osso della gamba viene segato l'osso, viene estratto il midollo e viene imparato con un fane grafizzato aromatico, le erbe dentro l'osso abbiamo messo delle erbe di campo che troviamo circa adesso fra poco c'è del scupit, c'è del grigio, qualcosa del genere adesso andiamo a scadarlo in forno e dopo continuiamo a intervare Devo fare una correzione, responsabilità completamente mia ero rimasto all'azienda di prima, il Tabor è di Piero Martellosso del nostro territorio era il souvenir di Forza Mala di prima devo fare legna, la faccio sicuramente chiedo scusa, le diamo la parola appena i ragazzi cominciano a portare il rino quindi avranno la possibilità di assaggiarla, sicuramente è un vino rosso, un vino rosso importante con la carne rossa ho detto prima, tradizione e innovazione la tradizione è la scottona, è il manzo, è la tagliata l'innovazione è questo midollo questo midollo che avete visto è stato preso l'osso del midollo è stato quotato completamente, è stato riempito di erbe dei nostri prati perenni, dei nostri campi stagionalità ancora è stato, questo midollo è stato impanato è stato impanato con pane all'erbe ancora quindi tradizione, stagionalità e adesso verrà impiattato in questo modo quindi questa tagliata e questo piatto Piero ha avuto modo di farlo parecchie volte con lo chef Andrea quindi sa sicuramente, degnamente sostituirlo beh siccome Andrea abbiamo lavorato insieme 5 anni io praticamente gli devo un 80-90% di più quello che so a lui devo praticamente tutta la mia vita professionale circa quindi mi dispiace che non sia qua ma causa di forza maggiore l'ho portato da altre parti gliela faremo pagare, gliela faremo pagare qualcosa serviremo questa carne colita solo con il sale grosso anche se non è frugolano, non mi importa è venuto lì con molto buono ancora qualche minuto e ci siamo subito portiamo anche con i piatti per tutti voi spero che non ci siamo divulgati troppo ma sono i tempi televisibili grazie a tutti grazie a tutti dobbiamo solo tempo scusate ma la tagliata deve essere fatta un pochino non possiamo sgarare perché se fossero ci massaccherate ci vuole ancora qualche secondo la tagliata deve essere fatta un pochino la tagliata deve essere fatta un pochino la tagliata deve essere fatta un pochino buonasera a tutti nell'attesa della carne ammazzo un po' l'attesa parlandovi del vino che vi stanno versando e che verrete in abbinamento a questa tagliata è un vino rosso è un vino che fa la vendita è un vino che fa la vendita è un vino che fa la vendita in acciaio e l'affinamento per il 50% di un barriso francese di terzo passaggio e per il 50% invece continua in acciaio dopodiché viene fatto l'assemblaggio delle due massaccherà questo per dare un po' di struttura con il legno ma per far si che poi il legno non prevalga su quelli che sono in realtà i sapori e gli aromi delle uve è un vino da una struttura abbastanza importante ma non eccessiva che si sposa bene con le carni rosse con i piatti un po' più strutturati è una gradazione di 13 gradi le uve sono dopo quindi grave quindi sono della nostra zona ha un colore rosso un po' sul granato dovuto proprio all'invecchiamento basta, io non mi dilungo sulla vinificazione o su aspetti più tecnici perché non li conosco non essendo enologa e probabilmente non vi tedio perché probabilmente neanche a maggior parte di voi è tecnico vi auguro una buona degustazione bene signori ci siamo eccolo qua il bidollo con dentro le erbe di campo cioè l'osso al contatto del bidollo riempito al suo posto delle erbe di campo e il bidollo appena impanato con un pane aromatico sopra quest'erbe di campo prendiamo la nostra carne tagliamo delle delle pette più o meno spesse a piacimento ecco mettiamo 4 o 5 sale grosso olio extravergine un po' importante e abbiamo aggiunto per dare una nuca di colore solo con una semplicissima salsa al basilico signori eccolo qua tagliata di mando dai nostri sale con il bidollo e l'erbe di campo grazie 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 grazie